Mister, buonasera, Sant'Irigeri per Chance Pet News, le volevo chiedere, oggi un buon primo tempo, un buon approccio alla gara, la squadra sembrava avere anche gamba sulle seconde palle, abbiamo visto una squadra cattiva che aggrediva bene. Poi nel secondo calo improvviso, dovuto secondo lei principalmente a questioni di natura fisica oppure c'è dell'altro? E poi le volevo chiedere come mai ha optato per il cambio, diciamo non subito Cianci-Costantino ma con Marsura-Falso 9. Allora, il secondo tempo non mi è piaciuto, scusate, l'approccio dei primi minuti, 3-4 minuti, perché i ragazzi devono capire che i dettagli sono importanti, l'1-0 la partita è sempre aperta, non mi sono piaciuti. Questo potete anche vederlo voi, se la squadra arriva seconda nei raddoppi oppure viene esaltata facilmente, le motivazioni possono essere tante. Si adegua la partita al risultato in quel momento, perché una squadra forte che sta bene fa il secondo e c'erano tutte le potenzialità per farlo. Quella di Marsura era un cambio che già ho programmato, peccato che ho subito il pareggio ma l'ho voluto fare uguale, perché Davide è un ragazzo fresco mentalmente rispetto agli altri, poi nessuno l'ha sottolineato, però lui ad Avellino, in una sconfitta pesante, ha fatto un gol e un assist, col potenza ha fatto un assist per Chiarella, stava segnando. Grazie al mio staff, analizzando determinate situazioni, Cicerelli era leggermente in difficoltà, vanno sfruttati questi ragazzi. Metterlo falso 9 è perché loro ti concedevano l'1-1, però non siamo stati bravi a mandarlo in porta. Poi in quel momento ci è mancata anche la spinta di Mino, dovevamo cercare dall'altra parte Cicerelli che era più fresco. Ecco, queste letture, posso urlare dalla panchina, però queste letture te le dà nel momento in cui tu in campo sei lucido e riesci a vederle. Buonasera, mister Alessandro Agliasini, Telecolor Repubblica. Ha sottolineato quello che non è andato nel secondo tempo, soprattutto l'approccio. Però complessivamente, se facciamo il bilancio della partita, aver prodotto un gol su rigore, un tiro con Marsura nel primo tempo e poi l'azione nel secondo gol, sembra un po' poco come produzione offensiva. Cosa manca ancora per poter essere più continui in fase offensiva e per avere più occasioni di quelle che si sono viste contro il Potenza e stasera? Serve quella lucidità, quella tranquillità che ti permette di fare la giocata. Noi nel muovere palla, il primo tempo, parlo del primo tempo, perché poi il secondo tempo va analizzato in modo obiettivo senza cercare adibi. Il primo tempo eravamo sempre nella posizione giusta, però ci mancava quello che forse a questa squadra manca un po' da sempre, gli ultimi 15 metri, gli ultimi 16 metri, dove o fai una giocata individuale o la fai di reparto. Abbiamo avvicinato un po' a Marsura, a Cianci, per dare un po' più di sostanza. Noi abbiamo vinto, però di queste partite ce ne saranno altre. nel senso che bisogna essere onesti, diretti, però dovrà dare una mano chi entra, il mio staff sta lavorando e lavorerà sicuramente. Questa settimana anche un allenamento in più è stato importante, però io non penso sia mancanza o credibilità nel valore di questa squadra. Bisogna essere realisti e il campo poi parla sempre, se loro sono più freschi, più liberi di testa, nell'uno contro uno. C'è stato un momento che li capivo, perché passano gli anni, ma la tensione, l'adrenalina, la pressione che c'è in questo stadio, in senso positivo e in senso negativo, rimarrà adesso e rimarrà per sempre. Se c'è Zeuli o non c'è Zeuli, però anche il bello di questa piazza. E come lavorare su questo nelle ultime partite, diciamo, alla ricerca di quei punti che mancano per la salvezza e poi per eventuali play-off e la finale di Coppa Italia? Grazie. Lavorare e fare punti. Se tu fai punti e sei più sereno, probabilmente guadagni quel quarto d'ora in più, venti minuti in più sul secondo tempo. Però ripeto, ora parte la Coppa Italia, che è un evento che penseremo da domani, però altre partite che noi andremo a fare da qui a poco tempo, saranno partite di questo tipo. Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, Chance Bet News. Grazie perché i nostri coronai le state mettendo a dura pro ogni partita. Grazie. Vabbè, ogni tanto pensate pure a me, però. No, no, ci pensiamo, mister. Infatti, quando parlava di età, ho capito perfettamente. Eh, niente, niente. Le chiedo due cose. Quanto vale questa vittoria a livello mentale e fisico per la squadra, anche e soprattutto in proiezione di martedì per il Padova? E poi, visto appunto sempre Coppa Italia, a Padova rivedremo Teio e Di Carmine oppure ancora abbiamo difficoltà a arrivare a questi due giocatori? Grazie. Grazie. Nel momento noi non siamo, dunque bisogna guardare in faccia la realtà. Nello spogliatoio, è una battuta, vogliono giocare tutti i martedì, però Di Carmine forse lo recuperiamo. Teio non credo, forse Guaini. Vediamo cosa ha fatto Contec, anche perché ogni partita adesso viene bruciato un cambio. Per fortuna che Furlan non ha avuto nulla, perché se no i cambi di Chiarella, e adesso mi ricordo bene se Costantino prima. Costantino, adesso la risposta di prima. Costantino è il cambio naturale di Cianci, però un conto in questo momento, perché il ragazzo è un tesserato del Catania, e capisco il suo momento, capisco la piazza, i fischi, però è meglio che faccia 20 minuti fatti bene, piuttosto che 35, che becca i fischi. E dunque è andata bene anche in quello, preservare un ragazzo che in questo momento ha bisogno di aiuto. Mister, buonasera, Antonio Di Stefano, Live Sicilia. Senta, le domando, per carità, la stagione è stata quella che è stata, e tante volte le partite si sono perse. Partite come questa, quella di questa età, si sono perse. È possibile, giusto o perlomeno incoraggiante, guardare il bicchiere mezzo pieno? No, oggi è una squadra che non ha subito il secondo gol, il secondo gol invece stavolta l'ha fatto. E poi mi viene a domandarle una seconda cosa, in un momento molto teso della partita, mi è sembrato di vedere, anche di capire che lei abbia dato l'esempio. C'è stato lì a bordo campo, nel perimetro della panchina, quello scontro con Vicentini, il numero 6, eccetera, eccetera. Ha voluto mantenere la calma, probabilmente qualcun altro gli sarebbe lasciato andare anche in qualche scenata, in qualche atto di nervosismo. E l'ho visto come un modo anche, come dire, per lanciare un messaggio, un esempio, in un momento così complicato, diamoci sotto in campo piuttosto che vedere certe scene. Vabbè, 20 secondi li ho recuperati per la squadra. 20 secondi in quel momento erano tanti, dunque, vabbè, ma che però non sono caduto perché lui mi ha preso, è perché con le scarpe da ginnastica poi sono scivolato, però 20 secondi ci siamo rimessi a posto e abbiamo recuperato. Io lo so che in questo momento tanti si aspettano qualcosa di più, però, ritorando alla tua domanda, noi dobbiamo fare i punti, perché pensate un attimo, se le cose fossero andate, bisogna pensarlo. E dunque, io la guardo continuamente, la classifica, perché so che il ruolo mio in questo momento è di raggiungere un obiettivo a breve. Buonasera, mister, Rosario Cardillo, Sicrepress. Abbiamo visto appunto una vittoria sofferta che può dare morale. Cosa prende maggiormente di positivo da questa partita? Cosa ha visto che è andato a migliorare rispetto alle partite precedenti? Grazie. Il primo tempo noi a volte dovevamo costruire a tre, a destra alzando Rapisarda e a sinistra allargando Zammarini e fare l'uno contro uno con Marsura. Le situazioni c'erano, però poi vedevi che la palla non andava come andava in allenamento. E dunque lì capisci che la giocata è sporca, però io prendo spunto da quella situazione. Noi gli abbiamo dato due o tre soluzioni in questo momento. Poi se rivedremo la partita, non so se si vede, però diamo più linee di passaggio, perché dando più linee di passaggio un giocatore può sbagliare di meno. Se sbagli di meno ci sono meno fischi e ci sono più soluzioni. Quello è il lato positivo. Ripeto, la cosa che non mi è piaciuta proprio i primi cinque minuti, dove comunque non mi sono piaciuti quei cinque minuti, come se la partita non era finita, era lunghissima, eterna. E loro lì si sono adeguati alla situazione e poi lì ci vuole personalità, gamba, per reagire. Alessandro Vagliasindi, solo una curiosità di carattere regolamentare, perché abbiamo visto entrare Cicerelli in doi. Poco dopo entra Contec, esce Contec ed entra, è curato. Cicino mi sono informato. E' uno slot, tutti e tre i campi costituiscono un solo slot, perché non era ripreso il gioco. No, per fortuna, perché se no, ripeto, altri cambi non li potevi fare. Però per fortuna Ivan si è gettato a terra. Noi abbiamo chiesto delle lucidazioni al quarto uomo e dunque era uno slot. E poi ne avevo altri due e ho fatto Costantino Chiarella.